Ogni volta che nasce un giornale o un'iniziativa di informazione è assolutamente importante perché questo consente di avvicinare, tentare di avvicinare i cittadini alle istituzioni, alla politica. In un momento in cui la politica è bistrattata credo sia assolutamente importante. Per quanto ci riguarda noi favoriremo anche questa vostra presenza attraverso le possibilità che ci saranno. Credo sia importante in questa fase che si aggiunga un altro organo di informazione che mi auguro, ne sono certo, riuscirà ancora di più a mettere e a sottolineare le potenzialità di questa area che è un'area assolutamente importante.